ciao a tutti vediamo come abbellire il nostro giro blues attraverso la tecnica del back cycle di triadi questa definizione indica il movimento della triade costruito sul primo verso quello costruito sul quarto grado per esempio durante un accompagnamento stando sul fa maggiore è possibile passare per la triade di si bemolle quindi dal primo al quarto per ricadere nuovamente sul fa ossia sulla triade di partenza stessa cosa faremo sull'accordo di si bemolle passeremo sul mi bemolle che è il quarto grado per poi ricadere sul si bemolle ed infine faremo la stessa cosa partendo del do maggiore passeremo sul quarto grado fa maggiore per ritornare sul do maggiore si tratta di un movimento facile in qualsiasi posizione ed è frequentemente impiegato in diversi generi pianistici blues incluso nel prossimo esempio il back cycle interessa il primo il quarto il grado in tonalità di fa maggiore e da notare la condotta delle parti attraverso i rivolti otteniamo il minimo spostamento e ora abbiniamo questi voicing a un pattern per la mano sinistra creando il seguente groove in un blues di dodici battute in fa e da notare la condotta delle parti attraverso i rivolti otteniamo il e da notare la condotta delle parti attraverso i rivolti otteniamo il ovo 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 Grazie.